7 8 9 10 salve i love via go for it eccolo qui il big boy due big boy ma ce n'è uno veramente potente vediamo a 20 cc il fenomeno segue c'è la clip mike era un picca icon da tre scelte onestamente non lo so leggi sul pic l'ho aperto come tanti altri manco ci ho fatto caso ma non gufate serve o neymar o no vabbè non lo so uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci vada po eh no sto doppio allora pigliamo a marcus gomez tripla con la cugna eh no questo è più rush ford chi chiama rush ford via tra l'altro skill sinia eh ma droppe no questi che ti rire mister perché ridi ok dopo la dopo aumentiamo la difficoltà l'ora betto vuol dire perché 93 ma sai che con sto pacco veramente easy via eh infatti troppo easy infatti il 93 per cento scelga comandante scelga lei scelga aiuto no però mom è stata a fa domande voglio bene ma a a cui ho risposto nel video che è uscito oggi oh betto finito ecco fuori we canana e il 96 non c'è pure questa l'avete beccata scegli i risultati dopo andiamo avanti con le betto via ok ehi vabbè cancello scelga 4 2 3 1 meglio a cugna o 2 3 4 e 5 vada po e go for it tiè ok abbiamo un 94 scelga che cazzo vedete che chi nasce tu numero 1 2 3 4 e 5 almeno un 96 via e niente già ha vinto già hanno vinto i sì va bene le prendo chill well via un altro non male durante la serata mo gli ammannanzi non voglio far aspettare troppo gli altri e ok un 95 lo manda tutto sommato direi che 95 96 97 non male non male pensate il fatto che in passato aveva effettivamente un impatto ok oppure per le qualifiche stesse non si possono mettere i bronzi in panchina ecc e 10 adesso subentra altro adesso subentra la facciamo valere per la prossima la bette e fatela pure scelga comandante adesso per me il momentum lo si sente a seconda degli step dell'avuel non c'entra più la rosca vada po vada po salve del lion allora vada e noi con 5000 partite ciao osama good night 5 vada po via allora allora cosa abbiamo qui ho black prendo ho black vediamo 1 2 3 4 e 5 vada po e go for it quindi non vi dovete lasciare è un po' oblito si un po' si ve l'ho detto oggi sono stata a freeze 4 e 5 quelli che spammano scivolate bravo bravo ok Ferran Torres vada po vediamo apertissimi comandante per quale motivo ha aperto lei per quale motivo comunque ma che sta facendo non li scarti li butti vabbè li ha scartati va bene ringraziamo il gentilissimo track 7 8 no e 10 vada po via e manoz anche ha picchi su particolari non so se volete l'overoll non so vabbè 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 qui chi sceglie vabbè overall vabbè volito via ehi vabbè 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 di overall anche qui salve salve giuelonzo niente pacchetto ma non vedo grosse alternative da dopo via ringraziamo il gentilissimo quanto più bello del mondo quando ci stavano derby ti va a fermare scelga io prenderei felix c'è quando ci stavano derby tu eri vinter milan la non si capeva niente stavano giocatori più forti o molto da serie a ehm oh non male non male questo chiellini piste se pausa vabbè lui giocatore allora tutto pronto 1 2 3 4 e 5 badabo erizla lo so vabbè scelga io qui direi the league non vedo grosse alternative procedo ehm gentilissimo terzo pick via si De Bruyne non è male ok Rashford anche tu bei tempi bei tempi vabbè qui prendiamo l'overall 3 4 e 5 anche uncle ehm ehm qui prendiamo Romero vabbè via non ti preoccupa Tony a nulla a nulla a limite la facciamo valere per i prossimi dai 3 4 5 su FIFA 21 al limite ma no i bronzi ritenevo per il me primo pick 1 2 3 che è è inutile stare qua a fare i disfattisti quando esce il gioco e ci sbattiamo la testa sopra vediamo non mi piace stare qua a parlare aria fritta onesta 4 e 5 via eh non sa c'è blito penso si staranno tutte che pacca ma ok le prendo il 94 vado via via non crashà vabbè prenda spina vado po' e go for it allora abbiamo un 96 un 94 un 92 un 91 non ti ha fatto abbettare vabbè stai pronto per la prossima e dici vado po' via ok un altro 95 vado non pensare a pande non trovo via maron noo e chi è già fa una storia e chi sei un contenuto dell'astante di chi è e no senso al bologna top sanchez ok io intanto e 7 boom ok still 95 il capocchia via via bene poi e 2 vado po' eeeh prendiamo Gigio le doti nascoste di Villa 942 che si stucca Vinicius pazzesco pazzesco la betta era ovinicius cioè io rimango sempre più scioccato dalle dotti di tony fucking modestino così tiè scelga scelga lei via bamba roberto carlos no so zio so zio vada po' via ok danfis boom oh a cugna hai visto per che è c'è una chiesa chiesa che ora se